Schiaffeggiando Garibaldi nel pomeriggio 5, Mirta è intervenuta, lapidaria. Nella dimora del Grande Fratello, Giuseppe Garibaldi può godere di popolarità tra i concorrenti, ma al di fuori degli studi di Cinecittà, la situazione è differente. Il Bidello Calabrese ha i suoi sostenitori, ma ogni puntata del Grande Fratello suscita una serie di critiche su Twitter. Mentre alcuni fan esprimono il loro apprezzamento, c'è anche un personaggio famoso, ben inserito nell'universo del Grande Fratello, che sembra non condividere l'entusiasmo per Giuseppe. Durante la puntata di giovedì pomeriggio, Emanuela Gentilin ha informato Mirta Merlino delle ultime notizie dal Grande Fratello, ultime notizie dalla casa del Grande Fratello, Giuseppe è stato nominato, non per voto popolare, l'uomo più attraente della casa. Monia e Fiordaliso sono state le nominatrici. Successivamente, è stata trasmessa una clip in cui Monia La Ferrera e Fiordaliso spiegavano il motivo della loro nomina, sa davvero come fare. Ti fa sentire una donna, desiderata e voluta. È un uomo d'altri tempi. Un uomo ama una donna dalla mattina alla sera, da quando si sveglia a quando va a dormire. Possiamo dire che è il maschio alfa della casa. La reazione di Vladimir Luxuria all'elogio di Giuseppe è stata un'invettiva interessante, voglio affrontare il problema con gli inquilini. Voglio dire loro che se hanno bisogno di un Giuseppe per sentirsi donne, si sbagliano. Dopo il commento di Vladimir, anche Mirta Merlino ha dato il suo contributo. Oh mamma, Vladi, sei così diretta. Ma non so, sembra gentile, ma affascinante. Non posso dire nulla sul fascino di Giuseppe. Non posso dire nulla sul fascino di Giuseppe.